La ricerca che stiamo conducendo al gruppo Mines riguarda la riabilitazione motoria per persone che presentano disabilità muscolari in seguito a traumi di natura fisica o fisiologica. A seconda del grado di invalidità, un supporto riabilitativo risulta essere essenziale al fine di sopperire a tali problematiche e permettere una migliore qualità della vita ed un completo rinserimento dell'individuo nella società. Tra le varie tecniche impiegate, la stimolazione elettrica funzionale, detta FES, sembra essere molto promettente poiché prevede un ottimo ripristino dell'attività muscolare affiancato ad una buona facilità di applicazione. Questa pratica prevede l'uso di impulsi elettrici a bassa energia applicati direttamente sulle superfici dell'acute nell'area interessata per promuovere la contrazione del muscolo o del gruppo di muscoli relativi ad un movimento funzionale. In questo modo, scegliendo opportunamente i muscoli da stimolare e di parametri di stimolazione, è possibile indurre e controllare l'esecuzione del movimento voluto. Le nuove frontiere della FES si stanno orientando verso un approccio biomimetico, secondo il quale la definizione dei parametri utili viene determinata elaborando il segnale muscolare prelevato da un primo soggetto in un buono stato di salute, il terapista, per mezzo delle tecniche di elettromiografia di superficie. Dopodiché il segnale viene inviato ad un computer per essere analizzato ed infine la stimolazione viene applicata ad un secondo soggetto, il paziente. Il risultato voluto è una buona replicazione del movimento eseguito tra le due persone, con conseguente possibilità di avere un diretto ed attivo controllo sull'esercizio da effettuare. La nostra ricerca si focalizza su quale sia la migliore tecnica di acquisizione ed elaborazione che permetta di realizzare un sistema di controllo efficace e real time, con il quale si possa eseguire questo processo riducendo nel minimo la complessità. E per farciò noi abbiamo guardato e ci siamo ispirati a quel che è stato ideato del corpo umano. I neuroni motori controllano l'attivazione dei nostri muscoli tramite semplici impulsi organizzati in una perfetta successione temporale. Da qui nasce l'idea. Siccome la stimolazione è una sequenza di impulsi, perché non far funzionare anche l'elettronica con gli stessi principi? Questo ci sta permettendo di fare sistemi più semplici, più piccoli e che consumano molto meno rispetto a quelli attualmente in commercio. Questo approccio viene definito bio-ispirato.